E' il giorno della festa promozione per l'Arezzo Calcio Femminile che grazie al successo centrato nel derby esterno con il Perugia ha matematicamente vinto il campionato di Serie C certificando il salto in Serie B a tre turni dalla fine. Le ragazze a Maranto hanno battuto 3-1 la compagine Umbra e hanno coronato quel sogno inseguito per tutta la stagione dopo una cavalcata memorabile fatta di 20 vittorie, 7 pareggi e nessuna sconfitta. Un cammino sontuoso per quella che è stata indiscutibilmente la regina del campionato. La compagine di Mr. Testini approccia la sfida con grande determinazione e al quinto sblocca il risultato sugli sviluppi di una punizione trasformata in rete dal tocco vincente all'interno dell'area di Ceccarelli. La migliore marcatrice della squadra, oggi al tredicesimo centro personale, mette la sfida nei giusti binari. Le a Maranto giocano bene e al dodicesimo sfiera il raddoppio con l'imbucata di Vicchiarello per Nisci che calcia trovando però la risposta di Cerasa. Al diciassettesimo bella azione ispirata da Ceccarelli rifinita da Razzolini e conclusa poi con il diagonale senza fortuna di Nisci. Il 2 a 0 è solo rimandato e arriva comunque al ventitresimo, porta la firma di Orlandi che di sinistro disegna una traiettoria perfetta infilando la sfera all'angolino. Al ventottesimo il Perugia accorcia le distanze al primo vero tiro verso lo specchio con la Menzo che sorprende Sheika ma è soltanto un episodio perché l'Arezzo rimane in controllo della sfida siglando al quarantesimo il gol del 3 a 1 con un destro potente e preciso che non lascia a Scampacerasa firmato da Razzolini. Nella ripresa lo spartito del match non cambia anche se il Perugia prova a farsi vedere dopo cinque minuti con il tiro a giro di Ciferri che esce non di molto. L'Arezzo controlla con autorevolezza e sfiera il poker all'ottavo con la bella acrobazia di Orlandi fuori misura sugli sviluppi di un corner. Il Perugia non ha la forza di reagire, l'Arezzo va ancora ad un passo dal 4 a 1 con Nevicchiarello che però non riesce a capitalizzare. Il gol non arriva ma la sostanza non cambia e la festa può cominciare. La CF ha vinto meritatamente il campionato, un trionfo cercato e voluto, un sogno realizzato che si chiama Serie B.